Il filo di futura continua il suo percorso e, dopo gli incontri dal vivo e online, allarga i propri orizzonti di spazio aperto di confronto. Diventa un laboratorio di iniziative a disposizione di dirigenti WISP che vogliono seminare i contenuti e gli strumenti per realizzare la parità di genere. Per dare valore alle differenze, per contrastare la violenza sulle donne, l'omofobia, la transfobia e l'uso sessista del linguaggio. Dalla Carta dei diritti delle donne sono nate esperienze e alleanze con enti locali, reti di associazioni e università con cui costruiamo percorsi e ci confrontiamo sul comune obiettivo di promuovere le pari opportunità e il contrasto alle discriminazioni. Futura è anche un percorso di formazione rivolto a dirigenti, educatori e tecnici per far crescere formatori e formatrici delle politiche di genere e diritti sul territorio e nelle attività sportive. Sul sito internet del WISP potete trovare informazioni e approfondimenti su tutti questi temi. È a disposizione la Carta Fumetti in varie lingue che rilegge in chiave sintetica e accattivante i principi della Carta dei diritti delle donne nello sport. Uno spazio da arricchire con materiali e filmati che potete inviarci per costruire la vostra idea di futura.